Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo della vasca da 1200 litri che mi sta alle spalle, una fantastica vasca che ho allestito per chi mi ha seguito su youtube da poco, un paio di mesi, cioè proprio due mesi, che gira benissimo direi. Ho utilizzato per chi ha visto i video shorts per fare la rocciata, cemento reef safe e rocce comunque non vive. L'utilizzo e l'impiego di rocce non vive in grandi quantità, qui si parla circa dell'80%, può farvi partire in deficit. Io l'ho fatto perché ovviamente utilizzare solo rocce vive il costo sarebbe stato enorme solo per quelle, poi considerando l'impiantistica e tutto quello che ci sta dietro avrei raggiunto delle cifre veramente alte. L'utilizzo e l'impiego di aragonite naturale e rocce morte mi ha consentito di contenere il budget, una cosa che comunque non è trascurabile in questo hobby. L'utilizzo però di queste rocce può portare al rilascio di fosfati, quindi uno parte in deficit. Questa cosa non è avvenuta perché ho utilizzato dei prodotti, dei prodotti che ho trovato veramente buoni, sinceramente sono colpito dal fatto che sono stati molto utili al mio scopo, cioè mantenere nitrati e fosfati costanti alla maturazione della vasca un pelino più veloce rispetto al naturale, anzi un bel po' più veloce rispetto al naturale, perché per colonizzare delle rocce morte, soprattutto in questa quantità, utilizzare un 20% di rocce vive ci avrebbero messo molto di più. Quindi io sono felice di questo risultato. Vi faccio vedere adesso il sito di questa azienda francese, Duff Bio, che ho la possibilità di pubblicizzare in questo video. Adesso lo guardiamo insieme e vediamo un po' i prodotti che potete comprare attraverso lo shop online di questa azienda e quelli che ho usato io. Ecco qui la schermata del sito. Come si può vedere ci sono anche prodotti per il dolce, ma noi ci concentreremo fondamentalmente su quelli del marino, perché noi facciamo acquario marino. Lo starter kit è questo qui e serve per far maturare rocce sintetiche fondamentalmente, ma anche vive, perché no? Anche le vive potrebbero aver bisogno di microfauna aggiuntiva, perché comunque serve per sostenere tutto l'ecosistema. Esiste in due formati, in realtà tre, quindi se ordinate due bottiglie da 500 ml ve ne mandano una da un litro, quindi fondamentalmente. Infatti io ho utilizzato una da un litro perché per un acquario da 500 a 1000 litri ci vogliono due bottiglie da 500 ml, in realtà sei perché lo starter kit è composto da tre, fondamentalmente da tre prodotti che servono per sostentare e una volta schiuse le uova che andrete a seminare attraverso questo kit. Sono uova di microfauna e meglio fauna. Ora vediamo i flaconi dei prodotti, che appunto microfauna e meglio fauna, Bacto Reef e microfauna booster, che servono per sostentare a livello microscopico il vostro acquario e popolare le vostre rocce. Qui possiamo vedere anche altri prodotti, sale, rocce, sabbia, insomma tutto quello che serve per allestire un acquario all'inizio. Torniamo alla schermata principale, insomma se volete visitarlo vi lascio il link in descrizione del video. E adesso andiamo a vedere la vasca proprio nell'effettivo, che specie ospita un pochino più da vicino, per farci un'idea di come stanno le rocce, come stanno i pesci che ho già inserito. Non credo che ne aggiungerò altri perché il mio obiettivo stavolta è proprio allevare coralli duri, quindi contenere diciamo l'inquinamento. Quindi niente, non aggiungerò altri pesci anche perché l'acanturus leucosternon di solito non è compatibile con altri inserimenti. Sono riuscito a inserire un paracanturus epatus successivamente, una cosa che di solito non si riesce a fare, ma ho fatto veramente molta fatica, veramente molta fatica. Successivamente magari nei prossimi video ne parlerò di come ho fatto ad inserire il paracanturus, nonostante l'acanturus leucosternon di solito non accetti altri intrusi all'interno del suo territorio in quanto molto aggressivo. In questa inquadratura laterale possiamo osservare le acantastrea che stanno benissimo, una l'ho addirittura fraggata perché è cresciuta veramente tanto, le montipore addigitate in alto, a destra quella verde e un pelino di alghette filamentose in questo punto perché è uno dei punti con meno corrente, dove la corrente è di ritorno e non è diretta, quindi i nutrienti un pelino distagnano, comunque nel tempo andranno via anche perché ho inserito delle salarias fasciatus e anche dei ricci mespidia globulus che già ne hanno mandati via un po'. Infatti in questa inquadratura si può osservare che le alghe sono veramente pochissime, anzi quasi non ci sono, sono solo in due punti se proprio dovevamo essere pignoli, ma tutto sommato va bene perché la montipora rossa in alto, la fogliosa sta facendo i bordi color bianco, ciò significa che sta calcificando quindi sta crescendo. Poi c'è una montipora stellata anteriormente che anche quella sta bene però l'ho presa da poco quindi va da sé che è un polino più piccola e le glabrescens che sotto stanno benissimo, anche le parancora, quindi va tutto bene. In questo acquario ho creato la presenza di molti archi perché volevo che la circolazione dell'acqua fosse massimizzata in modo tale da risparmiare un pelino sulla bolletta anche se le pompe di per sé non è che consumino molto anche se si parla di pompe da 80 watt perché da 80 watt l'una perché insomma la mole d'acqua da spostare è abbastanza ingente, l'assenza di ammassi di rocce di grandi dimensioni comunque evita il ristagno di nutrienti che vengono portati via e poi spediti in samp filtrati attraverso calze, schiumatoio e poi vedrete nei prossimi video vi farò vedere l'allestimento della vasca di sotto, insomma della vasca tecnica che serve proprio al fulcro del filtraggio che secondo me deve essere molto pulita. Qui abbiamo un'altra inquadratura dei pari archi di tutti i coralli, ci sono delle pocillopora che stanno benissimo infatti ne ho fraggata mezza di pocillopora d'amicornis, una goniopora rossa che sta bene, i zoanthus e verso destra si può osservare la caulastrea che era nell'acquario quell'altro, quello piccolo che è cresciuta parecchio, è triplicata, ce n'è anche un altro frag davanti, l'ho divisa in due quindi sta benissimo. C'è un archetto di stilopora, una stilopora milca che è cresciuta tanto nonostante l'acquario sia molto giovane, per questo ci ho tenuto a consigliarvi quei prodotti perché effettivamente mi sono reso conto che funziona, funzionano discretamente anche perché aiutano ad attivare tutta quella parte di microfauna che spesso manca negli acquari e può provocare dei problemi di ristagno di nutrienti, non gestione del carico organico e quindi alla lunga intossicare, cioè creare una sorta di inquinamento dell'acqua. Questa è un'inquadratura di tutto l'acquario, l'acqua è abbastanza limpida mi pare quindi comunque tutto sommato va bene e le rocce sono pulite quindi va tutto bene, progressivamente andrà sempre meglio immagino con il passare del tempo. Ovviamente io vi terrò aggiornati e seguite il canale quindi progressivamente aggiungerò aggiornamenti a riguardo soprattutto sulla crescita se va tutto bene oppure su eventuali problemi se va male, io spero proprio di no. Per quanto riguarda la creazione degli archi ho usato il cemento ReefSafe che non posso pubblicizzare però l'ho usato, usatelo anche voi, mi raccomando non usate cementi industriali perché ho sentito di persone che li hanno utilizzati, ovviamente poi i risultati lasciano a desiderare perché rilasciano sostanze tossiche, metalli pesanti, nitrati fosfati, tutte cose che non vanno bene. Qui possiamo osservare un abitante della vasca di sotto che ho spostato su, un Exenius Bicolor che vive vicino alla caulastrea che era di sotto, che sta benissimo, vedete come spolipa, forse ha un po' fame, si vede dal fatto che vestiti tirano fuori i tentacoli nonostante sia giorno. Qui c'è un Lismata Debellius che anche questo era di sotto, l'ho spostato su, sta benissimo e aspetta che passino i pesci, ad esempio il Paracanturus per pulirlo perché quello lì è una zona di pulizia della vasca. Infatti gli Lismata hanno questa importanza soprattutto se abbiamo dei pesci importanti che abbiamo pagato anche tanto. Averli è fondamentale perché gli puliscono le branche, la pelle e inoltre hanno la loro funzione di detritivori che male non fa. In questa clip invece i pesci pagliaccio stanno benissimo, hanno creato il loro territorio, tra l'altro sono anche particolarmente aggressivi, soprattutto quello nero, intorno alle Euphilia glabrescens, quindi stanno bene. Il pagliaccio che era giù si è integrato, mentre l'altro invece è un pelino meno. Infatti ogni tanto è accettato, ogni tanto no. Vedremo. Detto questo siamo arrivati alla fine di questo nuovo video, spero che vi sia piaciuto, se sì iscrivetevi, mettete like, ci vediamo alla prossima!